Ciao ragazzi, è tornato in questo nuovo video. Oggi andremo a Mirabilandia, siamo a Mirabilandia in un nuovo video strabiliante. Come primo gioco oggi ragazzi faremo le turri giumelle. Eccoci alle turri giumelle e adesso Soliana. Siamo arrivati al mezzo. Siamo arrivati a Cattuna e si divorano i panioschi. Ragazzi sono arrivati gli oschi, i due figli, Michelangelo e San Giovanni. Direzione ai Fisani. Scusi che anche l'abbiamo fatto in Cattuna per la prima volta. Adesso lo ripeteremo per la circolta. L'emozione è asciuta. Ragazzi, direzione ai Cattuna. Ragazzi, ancheci arrivati a Cattuna. È un vento forse, un vento più veloce e è molto difficile da fare. E adesso una volta sceso mi direi come è andata. Ragazzi, Cattuna finito. Adesso andiamo a fare qualcos'altro. Adesso andiamo a fare un video. Ci vediamo. Ragazzi, siamo arrivati al Rodeo. Adesso faremo il giugno per vedere. Poi c'è buc'è buc'è buc'è. Ragazzi, il Rodeo è fatto. Adesso sto facendo di nuovo per la seconda volta alle torre. Via, ragazzi, seconda torre è finita. Adesso andiamo a fare il Pacallo, un gioco come tipo le curve stranissime. Adesso andiamo a vedere. Ragazzi, il gioco delle curve a curve l'abbiamo fatto. Adesso andiamo a fare un'esima volta le speed. Di regina piccolina, la regina di Non manchete, sapevo giocare la cartina Sto fumando cassolina, cassolina mia Bella Ci vediamo la prossima Guarda la mia mia vacanza